Ciao ragazzi, sono tornato da Belgrado, benvenuti su GT5, ragazzi, è una gara stunt, molto bella con le gati, molto bella, molto molto bella, in realtà. Prima posizione, finora, finora, purtroppo ho parlato, non aggiorni. No! Oh, come? Porca vacca! Che culo! Beh, devo anche... Ok, bisogna un secondo. Andiamo là. Stimo secondo. Pratico. Ok, capito. Sì, ma basta. No, non devo morire. Questa gara è difficile. Però la cacca è... E... Certo, se ti sbaglio. Deve stare sempre vicino... L'acqua. Deve stare vicino all'acqua. Ok, dai. Dai! No, non lo so. Dai! Vale! No! 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 Parlo, ho parlato, ho parlato! Dove è quello che ci sta supporato? Scusa, ho parlato! No! Finalmente, è la prima volta, che ho parlato e mi ha portato fuori lordia! La prima volta! no adesso cosa l'equilibrio è quello che mi ricordo porto l'uomo 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 alla linea grazie a lei, partendo con il dedo NOOOOOO che ho fatto, grazie a te a lei nooo, alla fine alla fine alla fine te ho fatto, grazie a te che ha fatto un po' un po' uuuh un po' un po' dazione facciavia ma che non basta Schiacomo e che ci posso fare sto zitto quando l'hai fatta pure io? ce l'hai fatta io un ciò su oh dai, l'ho fatta pure io, che cavolo è? cosa che cavolo è? è una gara mi sposo se ci devi prendere un po' la mano non solo che adesso ti fai il culo per spavere le pulite ecco, ecco qual'era che ci fa, ah no, è una cavolata si, è una cavolata tanto che è sfigato non ti appena cade, no, è difficile dai porca vacca ciao zio basta non mi trolliti prezzi bassi è uscito bassi è uscito non è uscito è impossibile, finchiamo ma che tipo è? light oh, ah, stavo facendo gli jazz e capolo, i blocchi senti un po' sentivo oh va bene ma dai ma questo è anticappato tu c'è anticappato tanto questo non ci riesce a fare il mancomida buongiorno 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 bomb buongiorno il tra l'altro ericino dipende che c'è il lavoro l'amore 1 chi ti cominciò vuole stringere Non lo so, però mi sembra uno tipo strano, oh è quello che fa cadere sempre Sì, solo perché faccio cadere sempre se no io ricordo Eh vabbè, capo, quindi non si tratta, non si tratta, capito, se si tratta, ma basta lui a stare in strada Ma basta lui a stare in strada, non lo so io, ma credo che quando registra ci muta sempre Non li hai mutati Aspetta, sento un rumore Aspetta, spiegami che trovo che gioca con te Ma vabbè non c'è nessuno Però prima prendo il cittadino E' il bottiglio di questa parte, non quella Ma almeno quello che ha fatto la gara, là ci potevo mettere un check point Ma io non ho Eh, ci potevo mettere un check point ogni volta Ce l'ho fatta Oh Finalmente ce l'ho fatta dopo decenni Poco Eeeh Uniranno Eh, adesso sarà difficile No, prima di tutto Oh, oh Eeeh Verde Eeeh Guarda 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 Dai Oh No, 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 no Guarda 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 Io ti segnalo Guarda Sono sedia Dai Dai Ho concluso Va Spero che questo video vi è piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi e ci vediamo, alla prossima volta ragazzi, ciao!